programmazione di un movimento in go spaces in questo momento scelgo non di avviare quando il cane viene cliccato però immediatamente quando si avvia la scena allora ho il mio primo cane ed è stato abilitato per il coding come anche il secondo cane possiamo magari cambiarlo di colore un po così per distinguerli e poi ho messo anche un percorso che i percorsi sono si prendono dalla libreria in speciali in questo caso preso il la terza diciamo terzo elemento ne abbiamo altri due e quindi e sono già automaticamente abilitati per il coding allora facciamo così quando si clicca su riproduci sposta attenzione non il round pet movi attenzione non il round pet però il numero il cane 1 attenzione per prima lo devo allegare lo allego qua e ho abilitato il cane nell'animazione che lui cammina ok quindi lo muovo sul round pet che potrei anche rinominare no anzi immuovi il cane 1 sul round pet avanti si potrebbe anche mettere indietro però facciamo avanti in cinque secondi anche in sei poi vorrei anche che succeda un'altra cosa io posso dire nei controlli che poi attenzione attendi quando lui ha fatto giro per tre secondi e poi parte il cane 2 quindi posso fare in questo modo e faccio poi sposta il cane numero 2 che si vede un po diciamo sei metri avanti in quattro secondi ok vediamo un pochino adesso come accade cosa accade quindi lui cammina in questo momento però non cammina avanti dovrei adesso lui ha finito il suo giro e adesso questo si comincia a spostare in avanti vedete e l'altro rimane rimane sullo stesso posto per farlo un pochino più chiaro posso aggiungere a questo quando il cane numero 1 ha finito lui si sdraia e poi qui lo stesso che quando il cane numero il cane cane ha finito e lui prima si sdraia poi faccio di nuovo qui dal controllo attendi per due secondi e poi aggiungo un'altra ancora sul cane dorme ok quindi qui adesso sto creando tutta una lista se uno volesse vedere il coding per tutto intera abbiamo in alto a destra possiamo visualizzare lo schermo per intero quando voglio un attimino vedere la mia scena lo faccio un attimino più piccolo e qui abbiamo un primo esempio di come noi possiamo utilizzare i blocchi facciamo il controllo mi sposto un po ecco lui dovrebbe iniziare a camminare lo vedete proprio che va davanti e anche lui e adesso non solo si è anche addormentato ok quindi visto che mi è piaciuto questo tipo di aspetta